Ciao gentaglia, bentornati su Breaking Italy. Com'è andato il concertone? Da quello che leggo, bene! Nel senso che la maggior parte di chi era anche solo vicino a Roma e aveva le capacità per andarci non ci è andato. Bravi, eh? Complimenti! Non scherzo, avete fatto altre cose, immagino? Non lo so, non ho mai visto un concerto del primo maggio di persona in vita mia, quindi non so cosa aspettarmi, magari è ancora glorioso come un tempo. O magari no, non so cosa aspettarmi, dicevo, oltre alle polemiche del giorno dopo però, tipo Edoardo Bennato, la quale esibizione viene interrotta dalla pubblicità durante la diretta su Rai3 e la tranquillità sui social allo stesso modo è interrotta dalle lamentele dei suoi fan e del suo servizio a stampa, che parlano di censura. Seriamente, cercatevi i commenti, notate quanto pericolosamente alto sia il numero di persone che parla di una censura della mafia Rai spaventata da Edoardo Bennato. E chiediamoci tutti assieme come siamo arrivati a questo punto e se i social non siano, dopo tutto, un male incredibile. L'articolo che mi ha spinto ad aprire questa puntata parlando di Marine Le Pen, perché quello che ho intenzione di fare, spoiler alert, è comparso sull'Economist ed è brevissimo. Seriamente, è così piccolo eppure fa il suo sporco lavoro, perché solleva una questione tutt'altro che secondaria e anzi mette un po' in crisi, soltanto un po', ma è interessante il modo nel quale il giornalismo, i commentatori e le persone in genere si rapportano a eventi in politica, spesso fallendo di brutto nel prevederli, come nel caso di Trump, o nel comprenderli successivamente e analizzarli. E quindi, tipo, sempre Trump. Ma anche i populismi europei. Mi spiego. Calma. Domenica prossima, non questa passata. Durante questa ci sono state le primarie del PD, altrettanto importanti, eh? Il candidato più estremo, in questo caso, era Michele Emiliano, con il suo voler abolire gli stipendi ai politici come a Cuba. Realistico. Domenica prossima, dicevo, si vota al secondo giro di presidenziali francesi, ed è dato come possibile vincitore Macron, lo saprete, il candidato centrista, europeista e anti-establishment, che è un po' la moda del momento, diciamocelo. Come i resvoltini e girare con in mano il coso metallico che serve a svapare, sempre così, come una sorta di feticio da tenere qui, mostrare a tutti, stilosissimo. Leggenda vuole che gruppi di giovani del sesso opposto vaghino per le città, pronti a invaghirsi e concedere la palpazione dei propri organi genitali a chiunque possegga lo svapatore più in vista e più figo della contrada, sussurrando tra sé e sé. Ehi, guarda, quello sì che ha uno svapatore che fa davvero molto fumo, la quale cromata visione attiva il mio desiderio riproduttivo. Tutto vero, eh? Buttatevi. L'Economist fa però notare una cosa interessante, parlavamo di elezioni, vi ricordate? Con il sistema elettorale americano, quindi non a doppio turno, e facendo finta che le regioni della Francia siano in realtà degli stati e quindi tutto il sistema complicatissimo americano, grandi elettori, stati che diventano blu e rossi, a seconda di chi vince e Pepe the Frog ovunque durante la campagna elettorale, a vincere sarebbe invece stata proprio lei, Marine Le Pen, in un risultato molto simile a quello che si è visto in USA, con i piccoli centri rurali che votano per il candidato forte che promette di spaccare tutto e far tutte le cose che abbiamo già sentito, e tutti gli altri che invece votano altrove. Sia chiaro che i candidati sanno benissimo con che legge stanno andando a votare e quindi cercano di sfruttare a proprio vantaggio tutto il sistema. Negli Stati Uniti, ad esempio, è più importante vincere in alcuni stati rispetto ad avere la maggioranza del voto popolare, paradossalmente. E infatti Trump è presidente pur avendo ricevuto 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton. Quindi il discorso non è una revisione delle elezioni né la ricerca del sistema più giusto. Il punto è, rendetevi conto di quanto importante sia la legge elettorale ai fini della vittoria e di quanto poco le persone ne siano in realtà consapevoli che le regole ci piacciono o non ci piacciono, ma per capirci, alla fine è il risultato che conta. La squadra che ha fatto più gol vince il campionato e dopo puoi fare tutto il casino che ti pare, accusarla di ruberie, criticare l'arbitraggio, fare cori, fiamme per strada, non fa niente. Quella squadra si è comunque portata a casa lo scudetto e di lei si parlerà nelle settimane a venire. Stessa cosa per Trump. Dopo la sua vittoria, e anche ora continuiamo ad avere quell'impressione, si è parlato di ondata populista, populismi europei esportati in America e di come i liberali nelle città, che avevano preferito la candidata sconfitta, fossero delle sorte di mosche bianche che non sanno stare al mondo, destinate a scomparire. Quando di fatto si trattava della maggior parte degli americani. Ora, oltre al fatto che gli americani si beccano il presidente, che è quello che è, l'effetto Trump è una frase brutta che la gente continua a dire a dispetto di tutto. Proprio come stasera apri cena, o ti amo di bene, o non mangio roba chimica. È tutto chimico, ok? Non significa niente non mangio roba chimica, mi do fuoco e ti abbraccio fortissimo. Se due domeniche fa il sistema non fosse stato quello del doppio turno, ora staremmo innanzitutto osservando uno dei paesi più importanti d'Europa prendere la via della chiusura del nazionalismo e dell'isolazionismo, ma soprattutto staremmo forse facendo grandi discorsoni, proprio come per Trump, sull'effetto marine, sul populismo che alla fine ce la fa, sulla rabbia contro l'establishment, l'élite, le banche, i poteri forti, gli illuminati, ma al contrario, preparatevi, se a vincere sarà effettivamente Macron lunedì, in tanti parleranno di un risveglio delle coscienze, di un'identità europea ritrovata, dei valori dell'Unione, e un sacco di altre cose. Tutti i racconti più o meno veri, in realtà, anzi le cose non dovrebbero escludersi, perché il popolo, l'abbiamo già detto, non esiste, esistono varie persone che pensano varie cose. Ma è troppo complesso per il racconto che in genere si fa delle cose, e la differenza tra uno e l'altro è separata da una sottile membrana, che non è la volontà del popolo, ma è la legge elettorale che quella volontà la interpreta. Benissimo, detto questo andiamo veloci perché succedono un mucchio di cose. Quindi partiamo, ovviamente, dalla cosa più importante di tutte, eia, la marca della maglietta che sto indossando in questo momento. Mentre sto parlando, il lancio dovrebbe essere completato e la roba nuova disponibile per l'acquisto sul sito, come al solito, a scorte limitate, il che significa che prima arriva meglio alloggia. Ah, per chi me lo stesse chiedendo, no, non abbiamo rimosso nulla di ciò che era precedentemente presente nel sito, anzi, le tre magliette originali ora sono presenti anche in versione femminile. I top da donna ho preferito invece non indossarli qui nello show. Sono sicuro abbiate apprezzato la decisione. Rimanendo un po' in Italia, prima di spostarci in USA, perché c'è una storia che fosse accaduta qui, se ne sarebbe parlato per anni, in tutte le trasmissioni, da Barbara D'Urso alle Iene, Sky Sport, l'avremmo pure inserita tra una pubblicità e l'altra. Ha fatto un po' discutere, dicevo, ma neanche troppo. La manifestazione è organizzata dai militanti di Casa Pound al cimitero maggiore di Milano per commemorare i morti della Repubblica di Sao, fondata, come sapete, da Mussolini in Nord Italia quando le cose stavano andando malissimo, i partigiani si stavano ribellando in tutto il paese e l'Italia aveva firmato l'armistizio con le forze alleate. La scenetta, a quanto pare, è la solita, come in altri anni. Si marcia facendo finta di essere soldati, saluto romano mai passato di moda e si ricordano i morti di quella che a tutti gli effetti è stata una guerra civile. Anche se in realtà a nessuno frega niente dei morti, si utilizza lo strumento democratico della manifestazione, al contrario, per ricordare un regime, non i morti. Che, peraltro, questo strumento non lo concedeva a nessuno. È un po' come organizzare una manifestazione a favore dei matrimoni gay, ma in chiesa. Ovviamente le polemiche sono state le solite. Dato che quest'anno il prefetto di Milano aveva evitato, infatti, che i manifestanti intralciassero le celebrazioni per la liberazione, vi ricordate? Il 25 aprile scorso, Casa Pound ha organizzato la sua controcerimonia il 29 aprile e in tanti si sono chiesti se non sarebbe stato il caso di impedirglielo e basta. Ora, sorvolando sulla difficoltà di impedire a un gruppo di persone di incontrarsi in un posto e tendenzialmente non fare niente, oltre a giocare ai soldatini, c'è chi dice che questa normalizzazione, questo revisionismo del fascismo debbano finire. E chi invece parla dell'importanza di difendere la libertà di espressione anche quando a esercitarla sono forze e persone completamente illiberali. È un vecchio problema. Sul PD, ve lo dico, non ho nulla da dire, niente di niente. Mi avete chiesto un commento, ma non ne ho di veramente intelligenti da fare. E sono anzi sorpreso, ecco questo lo posso dire, sono sorpreso della partecipazione. È vero, un milione di elettori in meno rispetto alla scorsa consultazione, ma sono comunque andate alle urne mettendo il culo fuori di casa e pagando in non iscritti al partito due euro quasi due milioni di persone. Tantissime! E al 70% hanno confermato di volere Renzi alla guida del partito. Ora, si potrà dire tutto quello che si vuole. Buh, Renzi non mi piace, è cattivo o brutto, non è di sinistra a sinistra, quello che volete. Ma è evidente che la base del partito o non la pensa così per la maggioranza o lo ritiene un leader l'unico capace di giocarsela ad armi pari con gli altri grossi player. Da una parte grillo, dall'altra la destra, i quali partiti fingono di non volersi alleare, ma finiranno per farlo. Per quanto riguarda la storia americana della quale parlavo prima, allora, ve lo ricordate questo tizio? Questo è uno dei più noti foreign fighters europei, un rapper tedesco convertitosi alla causa del califato, Denis Kuspert, noto Desodog. Fico. Però ora ha cambiato nome, si chiama Abu Talal Al-Almani, qualcosa così, che suona figo quasi quanto Desodog, ed è partito in Siria per unirsi all'Isis anni fa. Ne avevamo parlato quando cercavamo di capire le ragioni che spingono le persone, quando il califato era un fenomeno nuovo, a lasciare le proprie vite in Europa per andare in luoghi dai quali la maggior parte delle altre persone, invece, cerca di allontanarsi, quindi cercando di inquadrare il fenomeno a livello culturale. Bene. Questa è invece Daniela Green, una donna sposata con un Marine americano che lavorava per l'FBI e che a un certo punto nel 2014 è impazzita e, con la scusa di visitare dei parenti in Germania, si è recata invece in Siria. Green lavorava, infatti, da molti anni per l'FBI come traduttrice, tanto da avere accesso a documenti e informazioni riservate. Proprio questo lavoro l'ha messa in contatto con il rapper Mujahideen, del quale si è innamorata e, arrivata in Siria, passando per il famoso confine turcosiliano, quando questo era ancora aperto, avrebbe sposato il rapper. Anche se era già sposata, ma non fa niente, ok? What happens in Siria stays in Siria. Il problema è che, dopo soli pochi giorni, la donna si è accorta che le sue condizioni di vita non fossero effettivamente ottimali e ha quindi informato l'FBI della cagata fatta e, in qualche modo, è riuscita a tornare in Turchia e poi volare di nuovo verso gli Stati Uniti, dove è stata prontamente arrestata e ha iniziato a collaborare con l'FBI, ma stavolta come informatrice. Negli Stati Uniti se ne sta parlando un sacco, perché, a fronte della collaborazione successiva, anche se il suo rapporto con l'FBI è stato ovviamente terminato, mentre in altri casi di pentiti si è parlato di condanni importanti, 10 o 15 anni addirittura, anche negli Stati Uniti, Daniela Green è ora libera, dopo aver scontato solo due anni di carcere. La notizia la si apprende solo ora, perché l'intera storia e tutto il procedimento sono rimasti atti segreti, per ragioni di sicurezza interna, probabilmente. E adesso un sacco di persone non sono contente. Che poi, tutti dicono, wow, l'FBI, l'ISIS, l'America, la Turchia... Sentite, vogliamo pensare alla vera vittima qui un attimino, ok? Ovvero il marito Marine? In che modo la giustifichi questa cosa se sei un Marine? Mia moglie non soltanto mi lascia, non soltanto scappa dalla nazione che ho giurato di difendere, non soltanto va in un paese nemico, ma per sposare un tizio che fa il rapper che ha conosciuto su Skype, affiliato all'ISIS. ISIS zoned. Non credo quest'uomo sarà mai in grado di riprendersi da una cosa del genere. Seconda cosa interessante, il Venezuela. Il presidente Maduro, del quale abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, ha trovato finalmente la soluzione alla grossa crisi che ha colpito il paese, lasciando parte della popolazione senza cibo e alla merce delle gang locali criminali, ed è riformare la Costituzione. Maduro continua a dire che c'è un golpe in atto da parte delle poche forze d'opposizione, che ha in realtà da tempo escluso dalla vita politica, e da parte degli Stati Uniti. Ah, e quindi ha espresso la necessità di fermare questo golpe con un processo di revisione costituzionale. In tanti però fanno notare non soltanto come Maduro si ha ancora al potere mentre le regolari elezioni si sarebbero dovute tenere l'anno scorso, ma come questo processo ne rallenterà ancora l'arrivo, probabilmente di almeno altri due anni. Ah, e ovviamente scontri tra civili e polizia per le strade. I morti, dall'inizio delle proteste d'aprile, sono circa 30, tra i quali molti giovani studenti. In ultimo, perché non vorrei che passasse l'idea che me ne sto disinteressando, ci sono stati degli scontri anche a San Pietroburgo, in Russia, dove vari attivisti LGBT, che protestavano contro la situazione dei gay in Cecenia, che non esistono, vi ricordate? Sono stati caricati dalla polizia, almeno dieci di loro arrestati. Il punto è che allo stato attuale delle cose non c'è molto altro, e mi ritrovo a ripetere ciò che ho già detto. Con Putin, che si è schierato di fatto con il governo della Cecenia, supportando l'idea che questi cosiddetti campi di concentramento non esistano, senza nemmeno ordinare delle indagini, è una pressione internazionale praticamente inesistente in merito, perché nessuno o quasi sta dicendo niente, è molto difficile che si sblocchi qualcosa. Ma l'argomento personalmente mi interessa e continuerò a parlarne ogni volta che potrò, cercando, come al solito, di mettere i fatti e ciò che veramente sappiamo di fronte all'indignazione facile e anche abbastanza normale che è causata la situazione di questo tipo. Per il resto questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Taglierò tutto, puntata lunghissima. Grazie a tutti per aver guardato fino a qui, a quei due sul server che in un video nel quale esprimevano preoccupazioni per il futuro di YouTube. Mi hanno pensato, grazie mille davvero, vedremo come si evolverà questa cosa, YouTube. È davvero in un brutto posto, in questo momento. E grazie agli alfiri di oggi, che, cioè, allora, capiamoci, mi hanno mandato questa foto sotto Natale, sono Anselmo, Lorenzo e Andrea, con il loro albero fatto di bottiglie di plastica. Ora, non so se apprezzare la creatività o irridere il disagio, forse una cosa non esclude necessariamente l'altra. Fate i bravi e ci vediamo domani.